appena è finito di cuocere il portolaco e il reso ho tagliato questa cipolla in 6 1 2 1 2 3 4 5 6 10 pezzi allora sai che ci facciamo questa qua la fondo così guarda va sotto 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 questo altro va sotto 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 bene questo adesso che succede anzi che sarà prende il reso praticamente si cuoce la cipolla si squaglia tutta salute quindi reso portola con porcellana con cipolla quando si è rifreddato tutto aggiungo l'olio io non mangio mai roba calda perché la roba calda arruina lo stomaco poi nella castiglia e l'ulcela